YOLANDA SWEETS ho stampato tutte le faccine e sopra ogni faccina come vedete c'è un bigliettino oggi non mi piace ogni faccina ha un bigliettino con un ingrediente ci sono ingredienti buoni e ingredienti cantini prima di iniziare questo video mi raccomando lasciate un bellissimo pollice in su attivate la campanella che sta vicino al tastino iscriviti deve avere le due spunte laterali così che vi possono arrivare sempre tutte le notifiche di quando carichi video io i video li carico tutti i giorni sempre alle 14.30 e indovinate in questo video a proposito di emoji qual è la mia emoji preferita A. la cacchetta B. questa qua che ha paura o C. questa qua che ride ma piange chi mi segue davvero lo sa quindi rispondete a questo qua sito sotto in un commento ok allora mamma che vogliamo fare pari o dispari si vabbè pari o dispari pari b bu b b giù 7 dispari va bene inizia tu scegli i emoji che vuoi che ti piace di più questo qua all'inizio mi è piaciuto questa qua con gli occhiali con gli occhiali ok staccala e vedi il bigliettino che sta ragazzi ho preso questo che sta davanti ok ci chiamo leggiamo io lo sono ciecata leggiamo no 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 ketchup iniziamo ha iniziato bene ok questo qua dove lo metto mettilo da parte così te lo metto te lo consegno io prendo la cacca vediamo ecco con la colorata con la colorata vai tocca a te cuoricino quella che manda il bacio a cuoricino 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 vediamo parola mamma vediamo vediamo spero per te cioè io scelgo le faccine belle eh con gli ingredienti brutti beh scegli le faccine brutte gli ingredienti brutti ok vediamo ahhh palline colorate palline colorate allora io prendo il cagnolino cagnolino yuki vediamo ah non mi sa se mi sa quanto le fishbowl 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 ok due una grande risata vediamo se in questa grande risata ce la facciamo pure noi vediamo un po' che ci sta te lo vuoi fare tu no clay verde ok la pasta verde clay verde non si sa quanto possa essere positiva e quanto possa essere negativa 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 vabbè vediamo vabbè ok allora tre tu già ne pescate tre cinque io mi prendo questa faccina che fa la lua cinque io già so che faccina prende ragazzi glitter rosa per il momento non mi è andata male questo che fa con gli occhi così questa qua la faccia arrabbiata questo è il diavoletto questa fa e qua c'è la scimmietta la scimmietta la prendo prendiamo la scimmiettia si prendiamo la scimmiettia vediamo se viviamo bene oppure no a mamma silvia scimmiettia si prendiamo che fa così boom 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 vediamo io non ci vedo io ho già un letto levo mette levo mette spugna per fiori ok scimmiette ma che 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 mi hai fatto oh no questo ricordiente è brutto wow che la metto nello slime eh si ah scimmiette ma che mai fatto vabbè adoro mettiti qua e buona ho paura mi è andata bene mamma mia quattro inglesi tutti buoni mi prendo la faccina che fa io solo uno l'ho preso bene vediamo no io ho la biscotti 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 e beh che buono non è buono guarda è andata bene fino ad ora lo sfriccio di sera che schifo ragazzi io mi prendo il diavoletto e io mi prendo la faccia mi sa che io mi prendo la faccia arrabbiata visto che molte volte il diavoletto lo sono vai apri prima tu fia vai oh no no il burro mi è uscito ma che ci azzeca il burro ma me la con la clit mamma 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 silvia adesso dobbiamo andare a prendere tutti gli ingredienti dobbiamo andare a prendere sì e poi dobbiamo fare lo slime ecco qua ragazzi abbiamo preso tutti i nostri ingredienti che già dove sta oh questa è la reazione di mamma silvia oh allora io inizio a mettere tutte le cose buone allora quindi è uscita la colla colorata la spugna è questo mamma allora io ti consiglio prima di mettere ti aiuto metti il burro il ketchup le palline e poi dopo che hai addensato metti questa e la spugna io te lo consiglio proprio vivamente accettiamo questo consiglio allora io metto la colla colorata allora prima il ketchup si vabbè non è che le devi mettere a quantità industriale ovviamente no certamente poi metti la colla glitter ok ok allora il burro il glitter rosa a mamma sarà un po' più difficile mamma mia mamma silvia metti il burro metti metti nel burro ragazzi il burro fa andati da un altro po' di colla vai basta che stifo tipo palline metti le palline colorate no raga devo mettere i bimami metà ok non sprechiamo perché qua cioè il burro povero il burro ragazzi ve lo giuro mi era andata bene che peccato che peccato però è buono stai sbicciolando i biscottini si mamma silvia ma che bellissimo slime che hai fatto il colore non è male no guardate che schifo non ci sta neanche la schiuma da bar ma niente 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 proprio niente che smorza niente niente ho burro eh burro eh mamma silvia allora io inizio allora che abbiamo detto non ci metto un po' di questo no che fai dopo alla fine alla fine è però lo sapete che profuma di biscotti sto slime a me non lo so di cosa profumo vai si deve addensare per forza si deve addensare per forza si è il burro che non mi fa addensare lo slime è il burro è il burro è il burro ragazzi è il burro che devo addensare il burro a me lo slime è venuto eh ma io ci dovrei mettere sta roba eh ma questo va dopo quando dopo che si ha eh eh allora ragazzi il mio slime è venuto ci sono ancora dei pezzi di biscotto dentro però alla fine è venuto bene mamma se hai delle di mamma mia sto facendo l'impastrabile quindi metti la clay dentro inizio a metterla inizio a metterla dentro vai eh certo tutta ovvio ma vai si si ok vai eh mesco mescoliamo eh bellissimo non gli faccio vedere come l'abbia colore bello wow hai visto? fantastico così eh la devi mettere come hai messo quella clay dentro lo slime vai schiacciala dentro ma perchè bisogna mettere per forza questo? è perchè ti è uscito e perchè le emoji hanno scelto quindi mi dispiace ma da qui mi era uscito questo? la clay te l'ho fatta mettere ah la clay ah ecco te l'ho fatta mettere infatti lo slime è diventato verde ah ecco vabbè e poi ti è uscita anche la spugna spugna verde vabbè verde è il colore mio quindi colore preferito mamma ma ti è venuto bene bellissimo appunto sono io che non lo so cioè alla fine dai vieni qua fammi fammi vedere un poco ma a parte la fuzza di ketchup eh però alla fine tu sai ha cambiato ha cambiato aspetto aspetta facciamo vedere sei brava che no aspetta mettiamo più zoomato così no a me non va come non va? mamma questo fai fai così devi fare guarda eh ma non si mantiene sul tavolo mi segue guarda così devi fare così vedi non si piano ma ti faccio mantenere sul tavolo eh ma ti faccio dire eh guarda mh e che mi fa? vediamo perchè non per te che non lo so mai già eh ma non vuoi vediamo piano piano devi tirare eh piano piano così da su eh bravo ascia no non da male lascia a cuccia e ti aiuti a cucci ecco qua allora devo dire che alla fine non è venuto male a nessuna delle due mamma si è salvata in calcio d'angolo si ti è venuto bene lo sai perché? perché ci hai aggiunto la clay la clay verde che era morbidissima e quindi ti è venuto alla fine bene a me alla fine i biscotti si sono sciolte ed è venuto questo questo slime che mamma mia raga è bellissimo raga cioè molto bello è morbidissimo però a livello di ingredienti ho vinto io comunque la risposta al quesito di prima era le mochi che ride ma piange bene noi vi mandiamo un bacione un abbraccio fortissimo vediamo domani alle ore 14 e 30 con un nuovissimo video bye bye ahhh